Siamo nel porto di Baia con Pasquale Capuano, direttore tecnico della società di demolizioni AST. Voi state portando avanti un progetto molto importante per il porto di Baia. Di cosa si tratta? Sì, in effetti stiamo cercando di recuperare quel relitto della Sassari Primo che è stata circa 30 anni nel porto di Baia e non si riesce a fare niente per togliere. Non riusciamo a capire il motivo perché. Quindi noi come aziende abbiamo deciso di contribuire a questa cosa, cercare di rendere l'ambiente più bello. Perché in una città come Baia, che è stato il porto più bello del mondo, non si capisce perché si sta deteriorando così. E ci siamo offerti di realizzare questo progetto, di recuperare questa nave praticamente a costo zero. Il Comune, il Demanio, non ci mette un euro, ci mettiamo tutto noi. E magari recupereremo le spese in parte con il recupero dei materiali ferrosi. Perché visto che il nostro lavoro da anni, perché io sono uno storico della demolizione navale nel porto di Baia, per cui le caratteristiche ce le abbiamo. I requisiti ce le abbiamo, non vedo il motivo perché non potrebbero magari affidarci questo lavoro. Perché è un lavoro molto impegnativo. La ripeto, i requisiti ci sono. Aspettiamo notizie, tra cui anche il sindaco di Bacoli dovrebbe collaborare e metterci il suo aiuto. Cosa che vediamo che adesso non si sta muovendo ancora. Vediamo quello che succede. Se ci sarà un sì, che ben venga. Così riqualificheremo un po' la zona, come era ai tempi passati. Quindi questo è il mio augurio. Vediamo, con un po' di aiuto di pubblicità, un po' di aiuto di tutti quanti, vediamo di non perdere un parere favorevole, visto che la nave è stata 30 anni là. Diciamo che finalmente questo territorio si sta muovendo. Quindi anche questo progetto rientra nel grande progetto di riqualificazione, di rivalutazione del territorio dei campi flegrei in genere. Certamente, come per esempio stanno facendo a Roma, che hanno recuperato e stanno recuperando il Colosseo, gli imprenditori romani, il tipo della valle. Alla fine anche i piccoli imprenditori hanno intenzione di fare qualcosa. Perché da piccolo imprenditore si può diventare grande imprenditore facendo capire alla gente che le cose si possono fare.